Ciao a tutti ragazzi, siamo andati in questo nuovo video Io sono Misterion E oggi vi volevo dire Che c'è questo episodio di Sonic 2 Però, però, però C'è questo problema qua Che nello scorso episodio Non sono riuscito a farvi Vedere Come mi chiede si chiama Il livello di Di questo episodio qua Al primo livello tutto completato Perché era difficile Visto che Erano arrivate così a caso Delle robe di connessione Mi private, quindi Beh, non sono riuscito Poi sempre Io devo finire su E qua nelle DNA Non si vede mai No, dai Ma perché non sali Vabbè, sto per annegare Una bolla Una bolla Una bolla Una bolla Ma Ma proprio all'inizio Dobbiamo morire Non 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 corsa Non corsa Ecco Cosa scrive Perché Sono veramente Incazzato Negro Vabbè Scusatemi Nero 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 Ma Che Sto furiando Troppo Spettate che Vado Off Ho dovuto togliere Tu piragna Che fai Non mi batti Fai troppo schifo Se vabbè Se vabbè O la potevo Fai No 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 Ma sti qua Sono Lugiosi Come Minchia Ha fatto Sto qua No Deve morire Ma L'inferno Lui Non Non Vedete Lugiosi Uuuu Bellissima Qua No 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 mettiamo le bollicine amico grazie io l'ho presa la bolla no ma mi prendi per il culo gioco cosa ho fatto ho preso la bolla ho preso la bolla a me per lui ah è vero che l'immortale a ora capisco molte cose per anni volante acqua c'è il boss è odioso è odioso vedete è odioso cosa ridi brutto grassone adesso cosa fai bimbo minchia con tails era molto più facile sapete già volava se vabbè gioco attenzione attenzione ho preso il ringo ho preso il ringo toco il pittino provissimo tates provissimo io lo chiamo tates scusatemi ma io lo chiamo così problemi perché lo chiamo così grazie un po' troppo in alto eh signore aspetta la mostra che ho fatto ho battuto la testa ho battuto la testa comunque è tardi no andiamoci ci facevano le pubblicità facciamo questa parte del casino e poi lascio purtroppo non siamo riusciti perché per colpa di sti problemi tecnici è tutto un po' un casino perché a volte me la connesse ne si toglie e si rimetti e quindi volante vi dice connesso a puntini puntini perché non posso dire delle robe oh è casa mia è questo ah c'è Sonic, Taylor, ok però purtroppo ditemi se volete anche un episodio su Sonic 3 se volete ve lo porto anche se non so se gioco lo completo perché poi vi devo dire che io partirò in vacanza il 5 agosto e starò tipo due settimane o forse tre i video credo che alcuni riuscirò a caricarli anche se sarà molto difficile cosa ho fatto perché a volte la connessione devo fare un po' di cose se vabbè aspetta che mi ricordo che stavo guardando credo un programma in tv e a un certo punto credo che ho chiuso il telefono e mi sono messo a giocare con te e io la storia bella mi ricordo di notta fonda però qua io sono bloccato oh fai mi uscire aspetta cosa cosa faccio cosa faccio è un'unica possibilità dang raga sono bloccato forse no dove l'ero ah ok ok alla fine ho trovato un passaggio segreto grazie 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 mickey ma se vabbè ma tail come fa ad essere sempre così in alto no qua ci vorranno delle ore anche se io ricordavo un punto del casino no no e questa qua la parte no 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 la parte infame è un'altra fidate aspetta che non devo prendere quanto godo quanto godo quanto godo qua fisicamente badaboom mi adoro sta parte qua anche se in sto livello i nemici non ci sono un po' come parco giochi per divertirsi da anche il dottore Eggmanic solo che è uno dei livelli che io è un questo qua è una delle parti più infami anche se prendi questo vabbè ridate qua eh bisogna prendere questo bucissima gg guarda poi vi si non è grande grande brappissimo brappissimo ok brappissimo non so che serve di mortalità eh ma ok perché mi fatto di punti simpatici no allora c'era qua una scorciatro brava votate no ferma let's go parappa parappa oh abbiamo finito beh il video beh di solito durava 14 minuti ma fare il boss durerebbe molta quindi credo che si può concludere qua scusate beh credo che il video si può concludere quindi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.